Partendo dalla tua premessa, grazie a Claudio per l'invito e l'opportunità, dalla tua premessa su dove era complicato fare impresa, le regioni io ce le ho tutte. Quindi se io partissi la mattina col pensiero che non posso fare il mestiere per il quale sono chiamato temporaneamente a occupare la responsabilità, dovrei semplicemente fare altro. La storia in realtà della nostra banca, la storia di questa banca all'interno della quale siamo ospiti da un po' di anni, dice una cosa differente. I dati di partenza sono incontrovertibili, che ci sia più disoccupazione, meno occupazione giovanile, meno occupazione femminile, più net, più abbandono scolastico, sono tutti numeri di partenza assolutamente condivisibili. Però c'è anche un territorio che oggi offre la maggiore reattività dal punto di vista della formazione di nuove start-up, dal punto di vista della dinamicità delle PM innovative. Qui poi ci sono relatori che hanno molta più competenza di me, ma sicuramente è un dato che noi osserviamo con grande favore. C'è un alto tasso di imprenditoria giovanile e quindi c'è da ragionare su un punto che ha richiamato Massimo De Andres prima. Al sud ci sono centomila aziende manifatturierie, siamo l'ottava potenza manifatturiera del mondo, abbiamo quattro settori più uno, le quattro A, più il farma che oggi sono indubitabilmente delle eccellenze dal punto di vista produttivo. Quindi bisogna ragionare su come fare a riportare densità, perché si parlava prima del fatto che noi oggi, l'ho appena detto Costanzo, al nord c'è una saturazione fisica degli spazi, al sud ci sono opportunità che oggi questi spazi possono essere occupati diversamente. Quali sono le direttrici sulle quali la banca oggi sta lavorando per provare a far emergere queste eccellenze e quindi metterci in una condizione di agganciare il treno della ripresa che evidentemente già da tre anni a questa parte, con complice anche la pandemia, noi oggi già vediamo comunque dei segnali positivi e provo a spiegarlo in due battute. Noi abbiamo la forte convenzione che il sistema produttivo italiano non si regga più, perché di fatto la storia della politica industriale degli anni, dei decenni passati, ha fatto sì che sparissero i grandi champion, ma c'è il reticolo delle PMI di questo Paese che evidentemente organizzato in una logica di filiera consente a questo Paese, anche al mezzogiorno, di poter avere una verticale di produzione nei settori di eccellenza che fa del Sud un sub fornitore di quello che oggi si produce anche in altre parti del Paese e che però diventa funzionale per la ricchezza che chi è disposto a investire al Sud può generare una ricchezza aggiuntiva che Massimo con i suoi studi dimostra essere per ogni 100 euro investiti dal Nord verso il Sud un ritorno di investimento che per il Nord è di altri 50 euro oltre quelli che vengono effettuati. Quindi se noi oggi lavoriamo su quelle che sono le eccellenze manufatturie del Paese, sicuramente poi il tema del turismo è un'aggiunta e quindi ovviamente sono d'accordo con quello che dice Costanzo, utilizziamo in modo opportuno i fondi oggi disponibili sulle transizioni, quindi sulla parte infrastrutturale, sulla transizione digitale e sulle altre grandi transizioni che abbiamo in corso, creiamo le condizioni per poi fare l'ultimo pezzo che è quello di diventare attrattivi dal punto di vista degli investimenti. Noi dal 2017 stiamo raccontando dell'opportunità delle ZES, qui c'è ovviamente il professor De Vincenti che ne sa qualcosa, le abbiamo istituite nel 2017 e le abbiamo messe in condizione di funzionare nel 2022. Oggi la storia del funzionamento, del ruolo dei commissari governativi in area ZES dicono che gli investimenti si possono fare in 60 giorni, che le concessioni che ieri richiedevano 34 passaggi amministrativi oggi vengono fatti in 60 giorni e quindi gli imprenditori, e qui in sala ci sono imprenditori che queste scelte di investimento le hanno fatte, le possono fare qua dentro. Se noi riusciamo a raccontarla questa storia di un Sud che è in condizione di poter accogliere e non respingere, di una capacità del pubblico ovviamente di andare a convogliare in maniera opportuna gli investimenti, dentro le possibilità che oggi sono nella condizione di poter fare con grandi capacità di spesa, io penso alle grandi aziende pubbliche e ovviamente con il contributo di tutti quanti gli attori della struttura governativa, noi ci mettiamo nella condizione di creare appunto le opportunità dentro le quali poi gli imprenditori devono fare il loro pezzo. Io qui con Costanzo ogni tanto dibattiamo su questo aspetto e poi penso che nel secondo giro si possa discutere. L'imprenditore al Sud deve essere in condizione di essere attrattivo per i giovani che diversamente sono andato in un'altra parte. Quindi se noi riusciamo ad aumentare la densità delle imprese presenti, se riusciamo a farle diventare più grandi, se le mettiamo in condizioni di essere capaci di poter competere con i mercati internazionali perché le opportunità da questo punto diventano positive per l'azienda, l'ultimo pezzo è quello di essere attrattori anche dei talenti che vengono sfornati dalle nostre università che sono sicuramente di valore e quindi una politica di remunerazione adeguata, una capacità di posizionamento all'interno delle organizzazioni aziendali di valore, noi creiamo le condizioni perché tutto quanto questo possa essere ribaltato e metterci nella condizione appunto di non perdere ulteriormente opportunità. Grazie a tutti.